Eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. È una di quelle notti in cui i conti non tornano, o meglio, non torna proprio niente. Una di quelle notti in cui pensi a tutto quello che hai fatto, tutti i tuoi progetti, tutti i tuoi sogni, tutto quello che hai combinato. E ti rendi conto che se dovessi tirare le somme, ok? Vedere un po' di risultati, tenendo conto che comunque quello che hai ricevuto in cambio dalla vita è inferiore a quello che hai dato, ok? E pensi che avanzi qualcosa, avanzi veramente qualcosa. Perché alla fine siamo bravi anche a dirci, eh vabbè noi le cose le facciamo, sono quei discorsi, di solito te le fanno gli altri, devi far qualcosa senza aspettarti nulla in cambio, e tutte queste cazzate qua, ok? Però è anche ovvio che se tu fai una cosa, se tu ci metti il cuore nel fare una cosa, l'anima, la testa, lo stomaco, ci metti tutto, vuoi avere anche delle belle soddisfazioni indietro. E ci sono notti in cui ti rendi conto che queste soddisfazioni sono un po' parche, sono un po' limitate, sono inferiori al numero di quelle che ti aspetteresti. è una di quelle notti in cui anche la felicità non torna, ok? E ti chiedi dove è finita, ti chiedi perché se n'è andata. Magari è nascosta da qualche parte, ma perché non riesco a ritrovarla? E se appunto che mi do da fare, e sì che cerco, eppure lei non torna, la felicità non ne vuole sapere di tornare, ok? E' una di quelle notti in cui anche l'età non torna, perché ti rendi conto che il tempo passa, ti rendi conto che gli anni passano, ok? La vita va avanti, e tu pensi comunque di essere comunque fermo, ok? L'età anagrafica va avanti, ma di testa comunque è ancora 20 anni, 25 anni, 30 anni. Hai ancora i sogni di aumenterne. Tieni conto che non sei riuscito ad adeguarli, non hai voluto adeguarli all'età anagrafica che stai vivendo. E anche questa è una cosa che è bella da dire. Gli altri ti dicono bello che insegui ancora i sogni, bello sta cosa, bella. Però quando a volte sto a inseguire i sogni, sto a cercare a tutti i costi, perché pensi che se trovi i sogni trovi la felicità, è questo che pensi, questo che penso. Però a volte inseguire e magari sfiorarli, ma riprenderli per un po' e dopo loro si rivincolano e se ne vanno. Sono notti in questa cosa snervante. Perché non hai... Inseguire i sogni non ti dà una meta d'arrivo, ok? La meta dei sogni è sempre più in là, è sempre più in là. Si sposta sempre. È come se ogni sogno doveva essere sempre, sempre essere riconquistato, sempre metterti alla prova. È una notte appunto di domande che chiaramente non hanno risposta, di ricordi che chiaramente sono a senso unico, di momenti. È una notte di momenti. E quelli i momenti quelli tornano sempre invece. quando tutto quando tutto non torna, i momenti tornano sempre, certi momenti. E allora cosa che fai? Vai fuori, prendi un po' d'aria, ti metti di fronte al nulla, di fronte al cielo, di fronte al silenzio, di fronte a tutto quello che hai davanti a te e che non sia un muro però, che non sia qualcosa che non sia qualcosa con un confine. perché ti devi perdere. Ti devi perdere per cercare, per trovare. Sembra un paradosso, ma è vera sta cosa. Devi avere il nulla davanti per cercare qualcosa, per fare qualcosa di nuovo. E allora è solo in questi momenti che uno magari può alzare gli occhi al cielo e dice a volte chiede a qualcuno, a qualche amico, a qualche persona morta di dargli una mano, chiede a Dio di dargli una mano, ma a volte chiede anche alla fortuna, chiede di avere un colpo di culo, chiede all'universo che va tanto di moda a chiedere le cose all'universo, se l'universo vuole, dicono, di dare un segno, di dare qualcosa, di che l'universo ci faccia sapere di essere nella giusta strada, ok? E mi viene anche un po' da ridere perché vado fuori, terrazzo, chiedo un segno, chiamatelo Dio, all'universo, insomma, a chi non c'è più, e dopo mi rendo conto che davanti a me ho una rotonda gigante, ok? E questa mi sembra anche una presa per il culo della vita, insomma, chiedo un segno e mi danno una rotonda davanti, la fantomatica rotonda che ho davanti a casa, una rotonda immensa, come a dire, continuerai a girare tutto attorno, tutto attorno, tutto attorno, che la vita a volte ti prende anche un po' per il culo, secondo me, e dopo sono convintissimo che c'è chi dirà no, guarda che la rotonda è un segno che puoi avere molte strade, molte vie d'uscita, ok? Non devi focalizzarti su un significato della rotonda che giri, 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 così dicono gli altri, invece una rotonda la vedo come essere dentro a un loop che vai avanti, vai avanti, cioè giri sempre, giri sempre, indeciso magari su che uscita prendere, mentre tutti gli altri prendono un'uscita invece tu rimani là a girare, a girare sempre, sono notte in cui ti senti proprio dentro una rotonda che giri, 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 anche se sei stanco giri, in attesa di anche un colpo di fortuna insomma, non sarebbe male, e buonanotte.